Salve, sono il dottor Claudio Saracino da Ipnosi DCS, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi in anteprima mondiale sono a pubblicizzare un grande capolavoro dal titolo No Autismo numero 1 che aiuta tutte quelle persone, bambini, adulti, anziani, autistici ad eliminare i loro problemi di comportamento, di condotta e non solo. Naturalmente nel sottoscritto, negli associati, nell'editore non facciamo né diagnosi né cure né terapie devi sempre comunque andare dal tuo medico o dallo specialista della salute però sappi se nessuna nulla è contrario o ti assumi la tua responsabilità sappi che si tratta di parole semplici, pulite, create ad arte, ad hoc, con quasi un secolo di un antico sapere che provengono direttamente da Los Angeles Beverly Hills un metodo DCS unico al mondo che serve ad aiutare anche il tuo caro bambino, adulto, anziano che non vogliono essere aiutati o che non possono essere aiutati come gli autistici. Ti parlo con esperienze vissute dirette e indirette che funziona che elimina tutto ciò che non ami in una persona, in un bambino, in un adulto, adolescente, autistico perché le suggestioni di DCS sono veri e propri capolavori non trovi nulla in giro di uguale, di simile poi aspettiamo una tua videotestimonianza e te lo diciamo con il cuore in mano perché con la tua videotestimonianza dopo noi dell'associazione Ipnologi Associati Los Angeles Beverly Hills possiamo aiutare tanti e tanti altri bambini, adulti, anziani colpiti da questo problemone che è l'autismo, d'accordo? Scaricati su, giù, sopra, sotto, vedi te però se le hai provate tutte fino ad oggi e zero fatti concretamente perché non provare l'Ipnosi DCS vera e professionale con la B maiuscola? Questa è la domanda che devi porti rinunciare ad una colazione al giorno per 30 giorni perché no? Perché no? Non ti impegna il metodo DCS non impegna il tuo caro, non ruba il tuo tempo non ruba il tempo del tuo caro non ti fa mettere gli auricolari non ti stressa non ti fa mettere la famosa tuta o girare cappelle, palestre e quant'altro devi soltanto seguire le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un idiota alla prova di un pigro e meravigliarti di cosa può succedere d'accordo? poi se vuoi scrivimi un'email perché per email rispondo più facilmente e ti risponderò gratuitamente sulle varie tematiche fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi e ipnosi del dottore Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di CS del dottore Claudio Saracino e faccia il condividi con amici e parenti che magari hanno questo problema perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita seguimi anche sui altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di CS del dottore Claudio Saracino un bacio e un abbraccio alla prossima ciao grazie a tutti